Lisa Cicca Revisore Buongiorno. Credo che ci sia un aspetto che forse condividerete con me, e cioè la percezione di insicurezza, che ci pervade ormai da qualche anno. La sicurezza è un'insicurezza economica, un'insicurezza dovuta alla criminalità. Però questo confligge poi con i dati che in realtà riguardano la criminalità, perché se noi andiamo a vedere in questo spaccato abbastanza ampio dal 2004 fino al 2016, ci renderemo conto che gli omicidi, i tentati omicidi, sono diminuiti terribilmente. E se facciamo lo stesso confronto con gli altri paesi d'Europa, vedete l'Italia in quel rettangolino, beh, possiamo dire che l'Italia è una asi felice. Questo grazie soprattutto all'autorità giudiziaria, grazie alle forze di polizia, che ogni giorno sacrificano anche la loro vita per darci la sicurezza. Però c'è qualche cosa che nel frattempo è accaduto, ed è accaduto a partire dagli anni Ottanta. Io è lì che inizio la mia attività come biologo forense. Qui vedete un caso che ha segnato la storia criminale e anche la storia italiana, cioè il sequestro e l'omicidio dell'onorevole Moro. Ma quello per il quale voglio attrarre la vostra attenzione è, vedete, questa frequentazione del luogo, soprattutto a carico intorno all'area Noi, in cui ricorderete fu trovato morto l'onorevole Moro, che in realtà per noi rappresentava allora, come oggi, la scena del crimine. Però nessuno era cosciente che quella scena andava tutelata, che andava protetta. E allora proprio da quegli anni si è sviluppata progressivamente la prova scientifica. Cioè la prova scientifica è entrata nell'attività investigativa e io ho avuto il privilegio di vivere proprio questa progressione. Ma se riavvolgiamo un po' il film, dobbiamo anche ricordarci, ce lo ricorda Svetonio, nelle Vite di Cesare, che la prima testimonianza dell'uso della prova scientifica è nell'autopsia di Giulio Cesare. E la fa Antistio. Antistio è il medico curante di Giulio Cesare, ma si trova costretto a determinare quali sono state le cause della morte, quale colpo d'arma da taglio ha causato la sua morte. Per arrivare poi al primo caso, un caso di violenza sessuale seguito dall'omicidio di due giovani ragazze in Inghilterra, in cui per la prima volta, siamo negli anni 84-86, viene utilizzata la prova del DNA. Il DNA fa ingresso in questo panorama e si presenta come una possibilità che diventerà irrinunciabile, straordinariamente forte, per assicurare alla giustizia i delinquenti. Ma tutto quello che noi facciamo nei nostri laboratori, così come nella scena del crimine, lo dobbiamo a quest'uomo, un antesignano da questo punto di vista, Edmond Locard, che nel 1910 conò un principio, il principio di interscambio di Locard che si condensa in una frase piena di fascino e di attualità. Ogni contatto lascia una traccia. Se ci pensate, qualsiasi frequentazione noi facciamo, personale o di ambienti, in quelle frequentazioni noi lasciamo delle tracce e estraiamo altre tracce che diventano i testimoni dei nostri contatti, del nostro percorso. Beh, questo ha fatto sì che tutte quelle scienze che fino allora non avevano avuto uno sviluppo accanto all'attività investigativa diventano le scienze forezzi, e cioè la biologia, la chimica, la fisica, l'ingegneria, concentrate proprio nella necessità di poter dare delle risposte a che cosa? A dei reperti, a delle tracce che sono sulla vittima, che sono sulla scena del crimine. Vedete, questo è un elenco sicuramente parziale, ma oggi, proprio in virtù della grande potenza delle scienze, noi possiamo dare un senso e un significato agli insetti, ai pollini, alle vernici, alle fibre. Non vi cito naturalmente le tracce più convenzionali, come quelle biologiche. Tutto può essere importante per legarci a quell'evento e indicarci le responsabilità. Ma naturalmente non soltanto tracce fisiche, perché oggi a quelle si sono sommate le tracce psicologiche, quelle che vanno a studiare la vittima, che ne traggono elementi per capire quale può essere stato il movente, e ancora una volta comprendere quale può essere quella rosa di sospettati per quel determinato reato. E poi, naturalmente, le tracce informatiche, tutto quello che noi lasciamo attraverso i nostri dispositivi, il telefono, e lasciamo non solo le tracce delle nostre comunicazioni, ma anche della nostra posizione. E devo dire che se il DNA nel 1984 ha rivoluzionato il modo di fare le indagini, l'informatica forense ha sicuramente superato queste possibilità che la genetica aveva. Ma è tutto così semplice? E no, sarebbe assolutamente noioso, non saremo lì, costantemente immersi nella ricerca, perché molte tracce sono invisibili. E un modo per cercare le tracce invisibili, sia quelle biologiche, sia quelle non biologiche, è l'uso, ad esempio, delle lampade forensi, che sfruttano lo spettro completo della luce, che sapete è costituito da frequenze d'onda che vanno dall'ultravioletto all'infrarosso, e ci consentono, come in questo caso, questa era una maglia vestita da un omicida, di far chiarezza su delle tracce che non vedete all'interno di questa maglia, ma che, illuminata all'infrarosso, ci dà la possibilità di individuare tracce che hanno una genesi differente. Ci sono tracce da contatto, ci sono tracce da proiezione, che riscontrate poi con le dichiarazioni di questo indagato allora, imputato e condannato dopo, hanno fatto sì di poter capire che tutto quello che raccontava era assolutamente mendace. E poi c'è la chimica. La chimica, come il luminol, molto famoso, in fondo, nelle indagini, anche in quelle che vengono proposte dai media, ma è una reazione che, insieme e accanto alla presenza di emoglobina, anche in quantità estremamente ridotte, permette di vedere, effettivamente, se ci sono ancora delle tracce. Quelle due fotografie che vedete da basso sono vere e si riferiscono, forse lo ricorderete, al duplice omicidio di Novi Ligure, in cui prima, a sinistra, vedete una cucina che è caratterizzata soltanto da tanta sporcizia, a parte quei segni fatti col gesso, e a destra, invece, vedete le orme di piedi insanguinati che hanno scandito i movimenti e, quindi, il comportamento di Omar Favaro, che era uno dei due assassini di quella famigliola. Poi ci sono strumenti di misura, come il laser 3D, che ci permettono non solo di misurare, ma di modellare, quindi di fare ipotesi che riguardano, appunto, quella che è stata la dinamica. E poi, vedete, no? Due mondi completamente differenti. Quello di Giulia, così creativo, quello un po' cruento, che riguarda, invece, il mio lavoro. Ma anche io mi occupo di macchie, di macchie di sangue, perché noi andiamo ad osservare la forma, le dimensioni e la distribuzione delle macchie di sangue, perché una macchia, quando si muove nell'atmosfera, come vedete in questa veloce animazione, è una palletta, dicendo l'intervene più tecnico, è uno sferoide che si accorcia e si allunga, soltanto perché risette della forza di gravità. Ma le macchie di sangue non solo sono soggette alla forza di gravità, perché compiranno una traiettoria, saranno proiettate da una forza, e allora, da questo punto di vista, vediamo un'altra animazione e vedete come, con un solo evento, noi otteniamo una popolazione di tracce matiche. Naturalmente, quando interveniamo poi su quella scena, è chiaro che la gamba non c'è, il piede non c'è, ma noi sappiamo, ex post, ricostruire, in funzione di quelle morfologie e di quelle traiettorie, qual è stato l'area di origine, cioè da quale punto quelle tracce si sono generate. E questo, accanto alla possibilità di capire, sono tracce solamente che sono soggiocate dalla forza di gravità, quindi gocciolamento o contatto, o sono tracce da proiezione? Ma pensate, anche le aree non caratterizzate dalle tracce, cioè le aree di vuoto, ci danno delle informazioni su che cosa? Su quella che è la posizione reciproca, aggressore, vittima, che poi ricostruiamo, grazie alla disponibilità di software che oggi hanno facilitato moltissimo le nostre attività. Io, quando ho iniziato negli Stati Uniti, a occuparmi di questo, beh, non vi dico, era ancora forse più affascinante di adesso, ma misuravo macchia per macchia, tiravo le stringhe, cioè dei fili più o meno rigidi, mi calcolavo le traiettorie e con lo studio delle singole traiettorie arrivavo a determinare quello che voi vedete qui, l'area d'origine, senza strumenti informatici. Meno male però che ci sono. E ora vi voglio raccontare un caso, è un caso vero, è un omicidio, che però parte come un suicidio, è il suicidio di Valentina Salamone, la vedete lì, è quella ragazza sospesa da quella fune, nella foto a sinistra. Tutti pensano che Valentina si sia suicidata, perché è in crisi col suo ragazzo, è in crisi con la vita e con la sua famiglia. E per molti giorni, questo caso viene affrontato come un suicidio. Ma c'è un padre, la mia storia professionale mi fa incontrare molti padri che vogliono giustizia, che si impone, che non ci crede, che vuole veramente capire che cosa è successo. Allora riuscirà a far sì che la procura generale avochi l'indagine e quindi abbandoni quello che era stato fatto fino a quel momento per cercare di fare degli approfondimenti. Questi approfondimenti li vedete sintetizzati in quel sandalo, il sandalo che indossava Valentina quando è stata uccisa prima è sospesa dopo e vedete sulla destra cerchiato di rosso una macchia di sangue, un accumulo. Beh, se notate, i piedi di Valentina hanno il tallone più alto rispetto alle dita. Ma questa macchia che voi vedete a destra sul sandalo è nella posizione nettamente contraria. Significa che Valentina è stata ferita prima ed è stata mantenuta in una posizione assolutamente diversa dalla sospensione quando era già ferita ed è stata poi sospesa in limine vite cioè quando stava morendo perché morirà per asfissia ma a seguito delle lesioni che qualcuno gli ha provocato. E allora questo aspetto, questo particolare così importante farà sì che ci si possa approfondire ancora di più fare una sperimentazione che si chiama esperimento giudiziale cioè quello di utilizzare una persona della stessa corporatura di Valentina per dimostrare che non poteva far tutto da sola che non sarebbe riuscita né a passare la corda su quella trave né tantomeno a fare formare quel nodo e allora poi tutto questo avrà un ulteriore approfondimento perché quei sandali ci diranno poi chi in ipotesi è stato dico così perché siamo ancora nella fase del processo di primo grado e quindi giusto presumere l'innocenza fino a quando non si celebra il terzo grado di giudizio ma il chi era il suo ragazzo che lascerà delle tracce all'interno di questo sandalo miscelate naturalmente con il sangue di Valentina un caso che sarebbe finito come un suicidio ma che appunto celava un omicidio grazie proprio a questo studio vedete la sintesi il binomio DNA e BPA lo studio delle tracce di sangue beh devo dire che da biologo non avrei mai pensato a questa evoluzione del DNA ormai sono 30 anni che lo utilizziamo e io ho avuto il privilegio se di privilegio posso parlare accanto alla tristezza di occuparmi di un caso altrettanto tragico e cioè la strage di Capaci qualche giorno fa appunto abbiamo ricordato quell'evento e mi occupai insieme a Dottor Spinella dell'analisi di quelle cicche di sigaretta che poi ci consentirono di risalire al comando insieme naturalmente alle indagini tradizionali e poi avete visto quanto il DNA e grazie soltanto forse al DNA siamo arrivati a capire chi fosse l'omicida di Yara Gambirasio con uno screening genetico che per la prima volta è così ampio cioè l'analisi di più di 20.000 DNA per arrivare a capire quale fosse la paternità di chi fosse la paternità di quella traccia di sangue ma il DNA non è soltanto questo è banca dati e per fortuna anche noi abbiamo una banca dati ormai ma è DNA non soltanto umano perché è DNA vegetale è DNA animale c'è un caso del quale già i media hanno parlato che sicuramente per il quale conoscerete presto dei particolari che è quello di un altro cold case cioè l'omicidio di Serena Mollicone che è stato risolto comunque ha dato elementi importanti grazie al DNA che lo legava a dei frammenti vegetali di una porta quindi pensate quanto effettivamente la potenza di questo DNA che naturalmente oggi ci dà la consapevolezza di poter risolvere tantissimi casi non risolti allora quelli che si chiamano cold case o casi a pista fredda come l'omicidio dell'olgiata che è stato risolto 17 anni dopo che era stato commesso anche qui con degli errori investigativi incredibili ma non solo questo perché il DNA è affascinante quanto potente e non ha limiti perché le nuove possibilità che ci offre quello di individuare il colore degli occhi il colore dei capelli il peso la forma del volto cioè elementi investigativi che sono preziosi soprattutto nella fase iniziale delle indagini e non solo DNA non solo DNA per questo la ricerca è estremamente affascinante pensate alla popolazione di microorganismi che ognuno di noi si porta addosso e che è diventato un altro strumento di identificazione o di individuazione dell'intervallo di morte e che dire degli odori cioè di tutte quelle sostanze anche quelle variabili in ognuno di noi per le nostre abitudini per la nostra professione per il nostro modo di vivere che stanno diventando un altro presidio per l'identificazione tutto questo però ha sempre poi una finalizzazione e non posso in conclusione non citare questa iniziativa statunitense che si chiama Nenno Sense Project che anche in Italia ha avuto in Natali qualche tempo fa un'iniziativa che è partita proprio dalla consapevolezza che il DNA poteva risolvere tanti casi risolti e guardate dal 1989 365 persone riconosciute innocenti ma la cosa strabiliante è che 20 di queste erano stati condannati a morte ed erano degli innocenti e sono stati salvati dal DNA dalla scienza e in più del 50% questi soggetti hanno consentito poi il loro esonero ha consentito attraverso la nuova analisi del DNA di individuare i veri autori allora quali risvegli beh io direi il risveglio dell'impegno sociale il risveglio del senso di responsabilità della passione della ricerca costante della dedizione verso i nostri cittadini perché come ci ha detto Einstein il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare grazie 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 grazie